Ed Ex Rerum, capitolo 13 Qualcosa dentro Harry si spezzò e cominciò a sanguinare mentre davanti a lui Persi rideva. Un latrato privo di gioia, con appena un accenno di isteria che fece voltare tutti i pazienti e i guaritori nella sala d'aspetto. — No, no, non credo proprio, disse Persi appena ebbe smesso di ridere. — Non credo proprio. Alle sue spalle Harry sentì Hermione soffocare un gemito. — Persi? — No, scosse il capo più e più volte. — No, non capite, è di Odri che stiamo parlando, ok? Gli scappò un'altra orrenda risatina stridula. — La conoscete, non potrebbe, non potrebbe mai capitarle una cosa del genere. — È Odri, è ridicolo! I suoi occhi passavano da Harry agli altri due, alla disperata ricerca di una conferma. Distinto, Harry si voltò, sperando di trovare aiuto. Ron, muto e immobile, esibiva un colorito verdastro più eloquente di qualsiasi discorso. Hermione, invece, provò a parlare, ma le scappò un singhiozzo rumoroso e dovette allontanarsi di corsa, col volto tra le mani, prontamente inseguita a lunghi passi dal compagno. — Cazzo, Ron, è tuo fratello! Perché diavolo non te ne occupi tu? Perché sempre io? Si rimangiò subito quel pensiero. Era ipocrita rimproverare il suo amico per non voler gestire quel disastro, quando lui stesso avrebbe dato un braccio per disparire dall'all'istante. Serrò le mani a pugno e preso un grosso respiro. — Forza, Potter, sei tu l'auror, non Ron, non Hermione. Fai il tuo dannato lavoro e piantala. Un'auror, certo. Non importava quanto la cosa lo coinvolgesse. Non importava che tutte le sue paure peggiori si stessero realizzando. Quel male che arrivava a rovinare la sua famiglia. Lui che non riusciva a fermarlo. È toccata Odry, ma poteva essere Ginny, poteva essere James. Non importava, perché era un auror e quello doveva venire prima di qualsiasi altra cosa. Si girò di nuovo a guardare Percy, ancora incredulo e forse speranzoso di sentirsi dire che era tutto un errore o un incubo. — Mi dispiace. Mi dispiace tanto, gli disse piano. La consapevolezza di quanto accaduto dovette fare finalmente breccia nel cervello dell'uomo, perché il suo viso perse qualsiasi espressione e si fece di pietra. Chinò la testa e strinse con più forza la coperta attorno alle proprie spalle, rivelando così di indossare solo un vecchio pigiama sotto di essa. — Aspetta, murmurò Harry, estraendo la bacchetta per trasformare il pigiama in degli abiti più comodi, e nel farlo il suo cervello entrò di colpo nella modalità professionale. — Inspirò a fondo e non appena si sentì pronto cominciò a parlare. — Vi hanno portato qui non più di mezz'ora fa. I vicini hanno chiamato aiuto dopo aver sentito le gluti. Le urla di Audrey. Archer e la squadra investigativa sono arrivati appena possibile e stanno svolgendo i rilievi. Ma non dovrebbero metterci molto, la dinamica è abbastanza chiara. Interesse intellettuale, distacco emotivo. — Sì, così andava Mary. La sua anima sembrava sanguinare meno copiusamente, se il suo cervello rimaneva puntato sul lato tecnico del caso. Lo stesso non si poteva dire di Persi, ma d'altronde Harry era sicuro che se anche si fosse messo a parlare di centauri e lepricani, lui non avrebbe fatto una piega, perso com'era nel labirinto di quel lutto inaspettato. Prima che Laurel potesse proseguire con la sua inutile sequela di informazioni, una voce familiare lo raggiunse. — Harry. La mascherina nera sul viso di Cho Chang indicava che la mortuaria veniva dritta dall'obbitorio. Abbracciò l'amico, poi si scoprì il volto e si rivolse a Persi. — Tu sei il marito di Audrey Wesley? — Bennet, corresse lui in modo meccanico, lo sguardo fisso sul pavimento. Aveva la voce completamente in colore. — Audrey Bennet. Non ha mai cambiato cognome. Chuan Nui, poi procedette a domandargli se fosse già stato medicato e se lo avessero informato. — Con non gli ansie, rispose il cenno affermativo di lui. So che non è il momento migliore, ma devo chiederti di scendere giù con me. Necessità amministrative, aggiunse in tono di scuse. Nell'udire ciò Persi alzò di scatto il viso. Harry vi rivide il lampo di terrore di poco prima. Ed istinto rispose al posto suo. — Non è possibile aspettare un po', si è appena ripreso. — Non so, ma è stata la capodipartimento a chiederlo. Vuole iniziare il prima possibile. — Diamine. A Harry non sarebbe bastata una vita intera per imparare a imprimere quella dolcezza nella voce. Sembrava che ciò stesse parlando di un qualsiasi intervento di guarigione, invece che di un'autopsia. Il pensiero gli fece salire la nausea. — Non è essenziale che venga, insistette, ormai deciso a proteggere Persi almeno da quello. Io sono... — Ero il cognato. Un parente. Di certo basterà. Ti sono anche Ron Hermione, se... — Mi spiace. Sai come funzionano queste cose, Harry. — Ma... — Va bene. Con gesti estremamente calmi, l'altro si sfilò di dosso la coperta e la ripiegò. Possiamo andare. — Persi. — No. Sono sicuro che non serva. — Mi fa strada, guaritrice. Se assistere alla sua prima reazione era stato doloroso, vederlo incamminarsi curvo dietro a ciò fu ancora peggio. Harry seguì entrambi nei sotterranei del San Mungo, attraverso il corridoio dell'obitorio, che a quell'ora di notte era deserto. Suo cognato stette Chino in silenzio per l'intero tragitto, camminando con passo tutto sommato fermo, ma davanti alla porta dei decessi inusuali, fece un balzo indietro e si immobilizzò. — No. Harry intuì la sua voce più che sentirla, tanto rafioca. — No. No, 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 no. Persi, va tutto bene. Sono qui con te. No, no. Non voglio. Non voglio. Persi. Ciò si mise tra lui e la porta e lo fissò dritto negli occhi, senza perdere la sua espressione dolce. Persi, ascolta. Se non vuoi vederla, nessuno ti costringe. Tutto ciò che mi serve è la tua firma su un foglio. Ma posso dirti con certezza che se non la saluti ora te ne pentirai per il resto della vita. Quindi ti prego, pensaci bene. C'era la verità nelle sue parole. Fu quello a restituire un minimo di coraggio a Persi, che si rianimò e strinse i denti prima di annuire. Il tavolo su cui avevano messo Audrey era lo stesso di Giuliana, notò Harry, l'unico illuminato nella stanza in penombra. Non appena lo raggiunsero, ciò accennò il lenzuolo che copriva il corpo. Naturalmente non l'abbiamo ancora toccata, ma se ritieni che ti sia d'aiuto posso renderla più simile a prima? No, rispose Persi da qualche abisso lontanissimo. Me la faccia vedere e basta, per favore. Un istante dopo Audrey era davanti a loro. Harry si trattenne a stento dal distogliere lo sguardo, mentre i ricordi ancora più vividi di Giuliana e Buston si riaffacciavano e con essi raccapriccio. «Guarda, Potter, guarda che avete fatto tu e la tua stupidità!» Non udì ciò che disse la mortuaria prima di sparire dentro all'ufficio amministrativo, intanto com'era osservare il danno. Metà del viso era intatta, l'altra metà invece, dove la creatura dell'altrove doveva averla colpita. Era devastata la maniera di Eulalia, Giuliana e Brutus. «La pelle era nera e avvizzita, seccata», aveva detto Blevins quella volta. «Le ossa e quanto vi era sotto si erano contratti in una massa che di Udri non aveva più nulla». Dritto accanto a lui, congelato, Persi non staccava gli occhi dal cadavere. Quando parlò, il suo sussurro rimbombò nel perfetto silenzio dell'obitorio. «Harry, ti dispiacerebbe lasciarci soli, per favore?» Meno di un minuto dopo, Harry era seduto sul pavimento del corridoio. La testa tra le ginocchia. Gli sarebbe piaciuto da morire, mettersi a piangere, sfogare non tanto il dolore quanto lo shock, la rabbia, la frustrazione. Il rimorso. Invece no. Le lacrime erano cementate in un blocco pulsante proprio dietro alla cicatrice sulla fronte. Il che, tuttavia, non gli impediva di pensare. Pensare. Maledizione. Erano due settimane che non faceva altro che pensare. Due cazzo di settimane in cui aveva perso tempo invece di prendere in mano la situazione e darsi una cazzo di mossa. Avrebbe dovuto portare subito Ginny e James al Grimmauld Place e non l'aveva fatto. Avrebbe dovuto costringere Percy e Audrey ad aggregarsi e non l'aveva fatto. Avrebbe dovuto sforzarsi di più e indagare meglio. Avrebbe dovuto... Sì, sapeva esattamente cosa avrebbe dovuto fare. Cosa avrebbe impedito quell'ennesima tragedia e non l'aveva fatto. Perché era un idiota. E gli altri continuavano a pagare per i suoi errori, come in passato, come sempre. Diverso tempo dopo, la porta degli inusuali si riaprì e richiuse. Mary non se ne accorse finché, con uno sbuffo leggero, Pertino si sedette a terra accanto a lui. Grazie dei vestiti, disse raccogliendo le gambe tra le braccia. Quella frase era così scollegata dal corso dei pensieri che Harry dovette concentrarsi per diversi secondi prima di capirla. Oh, figurati, balbettò, ma è temporaneo, durerà al massimo un'altra ora. Si girò a guardare Percy, nonostante gli occhi arrossati sembrava sireno. Mi dispiace, disse lui, per tutto questo. Tirò soccò il naso. Sei stato gentile ad accompagnarmi. Te ne sono grato. Grato. La rabbia esplose nelle viscere di Harry e un altro pezzo della sua anima si infranse. Grato. Di che cazzo sei grato? È colpa mia, ringhiò. La furia dentro di lui premeva per uscire a fiotti dalla sua gola. E non avrebbe saputo fermarla. Così rimise la testa tra le ginocchia e la lasciò andare. È tutta colpa mia, tutta. Non ho fatto abbastanza da quando ho preso in carico questo caso del cazzo. Non mi sono impegnato come avrei dovuto. E ora non solo Brutus Nespine è morto, ma anche Audrey è... Riuscì a fermarsi prima di pronunciare il nome di Molly, che restò comunque sospeso nell'aria come un presagio. Se li scosse. Cosa gli saltava in mente di parlarne con Percy? Che aveva già il suo carico da portare senza che lui ne aggiungesse di altri. Ma quando suo cognato gli rispose il suo tono era morbido, come il giorno in cui aveva rassicurato Buston. Che dici, Harry? Tu non hai fatto nulla per mettere in pericolo la mia famiglia. La colpa è solo mia. Non dire stronzate. Non ne dico. Avrei dovuto portarla a Grimmaule Place e non l'ho fatto. La sua voce si inclinò. Se ti avessi dato retta, forse tutto questo non sarebbe successo. Harry rialzò la testa e la scosse con energia. No, no, no. Tu cercavi di proteggere Ginny e James. Non può essere colpa tua. Dov'è? Audrey e Molly erano mie responsabilità. Audrey e Molly erano mie responsabilità. Tu sei una mia responsabilità. Le parole rimbalzarono con forza tra le pareti del corridoio vuoto. Tutto quello che riguarda questo caso è una mia responsabilità. Sbratò Harry scattando in piedi per fronteggiare Percy. Che cosa sono riuscito a fare? Niente. Nemmeno proteggere la tua famiglia. La mia famiglia. Che... Come fai a dire che non è colpa mia? Non lo vedi? Quanto è colpa mia, maledizione? Incazzati. Tirami un pugno. Ammazzami se devi. Tua moglie è morta. La mia amica è morta. Io non ho potuto impedirlo. Perché non lo capisci? Perché non mi odi? Si ritrovò ad ansimare in cerca di fiato. Le mani che si chiudevano e aprivano in uno spasmo incontrollabile. Dal pavimento Percy lo guardava come se non capisse una parola di quello che diceva. Quasi fosse troppo distante da lui. Forse era così. Forse la sua anima era rimasta accanto a quel tavolo dentro ai decessi inusuali. Harry avrebbe preferito mille volte vederlo arrabbiato, come due giorni prima, quando gli era saltato alla gola nello studio di Audrey. Merlion. Molto Merlion. I suoi urla furiose, i suoi occhi pieni di rancore che quella tranquillità straziante. Non lo è, Harry. Fidati. Non so qualcosa più di te. Che cazzo avrebbe dovuto rispondergli esattamente? Harry restò a fissarlo, ansante, finché l'altro non distolse lo sguardo. Comunque, mormorò Percy, non ha importanza. Ora devo ritrovare mia figlia. L'ira di Harry si sgonfiò all'istante. Era vero? C'era Molly da salvare, prima che fosse troppo tardi, e lui sapeva benissimo cosa doveva fare. Oh, se lo sapeva. I suoi sensi di colpa, la sua rabbia, erano tutti per quella cosa, per quello stramaleditto dettaglio che era stato così stupido da trascurare, da rimandare. Beh, non più. Nessun altro avrebbe pagato per i suoi errori. Tu non devi fare proprio niente, Percy. Trovare Molly è il mio lavoro. Lo so, ma... Voglio aiutare. Non posso starmene con le mani in mano, mentre... No. Percy gli rivolse a uno sguardo interrogativo. Per tutta risposta Harry indicò la grossa ostione sul suo collo. Non ti hanno ancora dimesso dall'ospedale, perciò tu ora ritrovi il tuo guaritore e ti fai curare a dovere. Cosa? No, io voglio... Inoltre farai avvertire tua suocera, la tua famiglia, e anche Kingsley, se vuoi, purché nessuno diffonda la notizia. Io tornerò da te non appena avrò risolto la questione. Ma... Ma... È un ordine. Che fosse per il rispetto innato dell'autorità, o perché intimidito dal tono di comando, Percy in pallidì e tacque. Harry provò una fitta di rimorso, unita però ad una sempre crescente determinazione. Chiedi alla guaritrice Chang di riaccompagnarti in strada, aspetto e restaci. Ci vediamo più tardi. E con un ultimo scendo del capo si dileguò verso l'uscita dell'obitorio, consapevole dello sguardo di Percy, puntato sulla propria schiena. Si aspettava di trovare Ron e Hermione fuori dal San Mungo, e invece li incrociò sull'ultima rampa di scale, mentre risaliva all'ingresso. Harry, mi dispiace, mi dispiace tanto, lo invissi lei. Non avremmo dovuto lasciarti solo con lui, mi... Harry la fermò, alzando una mano. Ho bisogno di voi ragazzi, immediatamente. Ma... Ma certo, sicuro. Hermione si fece serie. Che dobbiamo fare? Lui non rispose subito. Prima li guidò fino all'uscita, per fermarsi e non appena si trovarono in strada nella freddaria notturna. Andiamo all'ufficio misteri, disse allora. Troviamo quel maledetto robore umano e capiamo cosa possa aver ricostruito Audrey, dopodiché cercheremo chiunque l'abbia legata. Va bene, fece Ron parlando per la prima volta da quando aveva saputo che sua cognata era morta. Andiamo. Cosa? No, aspetta un attimo, disse invece Hermione. Non possiamo andare così ai misteri. Dobbiamo perlomeno organizzarci o... No, Herm. Avevi dovuto andarci ore fa, subito dopo aver fatto il collegamento fra l'uroboro e la stanza del tempo. Harry strinse i denti. Se non avessi rimandato a domattina, forse stanotte non sarebbe successo nulla. Ma non potevi prevederlo. Non importa. Ho sprecato tempo prezioso e ora, Harry, ascoltami. Dobbiamo ragionare bene su quello che vogliamo fare. Sono stufo di ragionare. Ascoltami, per favore. Ci stavo pensando poco fa. La ragazza alzò le mani. Quanto tempo è passato tra un omicidio e l'altro prima di stanotte? Harry sbattileva alpebre. Ecco... Tre settimane. Massimo un mese, se non sbaglio. Esatto. Ma tra la morte di Giuliana Baston e quella di Brutus Nespin sono trascorse due settimane e tra Brutus e il rapimento di Molly soltanto due giorni. Se l'evocatura ha accelerato così tanto i ritmi, significa che potrebbe esserci un motivo ben preciso e... Significa che dobbiamo sbrigarci a chiudere questo caso, tagliò corto Harry, e che dobbiamo trovare Molly il più in fretta possibile. Brutus è stato ucciso poche ore dopo il rapimento, ricordi? Harry, non sto dicendo che non dobbiamo sbrigarci, solo che... Senti, io vado. Se vuoi aiutarmi, bene. Altrimenti resta qui e vada perso. Ron, andiamo. I due maghi si avvierono di corsa verso il luogo di smaterializzazione più vicino. Lì, attesero esattamente cinque secondi prima che compresse anche Hermione. Col cavolo che mi lasci indietro, Potter? Borbottò lei, afferrando la mano di entrambi per partire alla volta del ministero. Entrare nell'atrio deserto a quell'ora di notte diede a Harry un acuto senso di déjà vu. Quanto era passato dall'avventura della profezia? Nove, dieci anni? Eppure ritrovarsi lì con i suoi amici più fidati in cerca di qualcosa e con un pericolo mortale incombente su uno dei suoi cari lo fece sentire di nuovo un quindicenne spaisato. Solo che stavolta sapeva benissimo a cosa andava incontro e soprattutto non era un ragazzino allo sbaraglio. Era un Auror e con lui c'era una consigliera del ministero e un altro mago adulto e capace. Scesero al nono livello e raggiunsero il corridoio dell'ufficio misteri del tutto indisturbati. L'unico indicibile che incrociarono li salutò con un cenno deferente del capo prima di dileguarsi verso l'ascensore. Harry aprì l'ormai familiare porta nera e la grande stanza circolare illuminata di fiamma di ordine si stagliò di nanzi in voi. Pensate intensamente alla stanza del tempo e al loro boro, ordinò Harry, mentre la porta d'ingresso si chiudeva e la stanza iniziava a ruotare. Cercate di visualizzarli, è l'unico modo per non andare a casaccio qui dentro. Appena la stanza smise di girare, Harry si direste con decisione verso la porta di fronte a sé. Aveva funzionato. I suoi occhi furono accecati per un attimo dallo sfavillivo dorato dei mille orologi della stanza del tempo. Era molto diverso da come la ricordava anni prima. La campana di vetro con l'uovo che si trasformava in uccello e viceversa era scomparsa e al posto della vetrina contenente l'agire tempo vi era un addesolante spazio vuoto sulla parete. Ma il tichettivo costante era lo stesso e i tavoli pieni di orologi e libri testimoniavano una fervente attività di ricerca. Una fitta lo colse mentre il suo cervello gli proponeva la visione di Audrey, giovane alchimista o forse ancora apprendista, che girava tra quegli stessi tavoli e ripuliva i loro danni, inviando contro tutto e tutti, alla sua solita maniera. Scacciò subito l'idea. «Arebbe avuto tempo. Molto spiritoso, Potte. Per quello. Ora doveva concentrarsi. Cerchiamo tra le librerie», suggerì Hermione. Audrey potrebbe aver visto l'oroboro in un trattato o qualcosa del genere. «O magari è uno di questi». Ron sollevò la bacchetta accesa e indicò alcuni orologi dalle forme inusuali, ammonticchiati su una scrivania. «Allora tu controlla quelli, Ron. Hermione, prendi le librerie di questo lato, io vado di là». Era un'impresa improba. Harry lo capì non appena sfilò i primi libri dallo scaffale. «Ci sarebbero volute ore, se non giorni, per controllare tutti quei testi senza l'aiuto di un esperto. D'altronde, se i dipendenti dell'ufficio misteri si chiamavano indicibili c'era un motivo. Nessuno di loro sarebbe stato in grado di aiutarli, nemmeno volendolo. Per scegliere un indicibile dal segreto serviva l'intervento del Wisen Gamot, e non c'era assolutamente modo di ottenerlo in tempi brevi. Dovevano rimboccarsi le maniche e sperare che la buona sorte, una volta tanto, li aiutasse. Per la mezz'ora successiva la stanza del tempo fu piena solo di ticchetti e fruscio di pergamene. Ron controllò gli orologi sulla prima scrivania e passò alla successiva, ma a giudicare dai suoi sbuffi frustrati non stavo ottenendo niente. Hermione esaminava diligentemente tutti i testi su cui riusciva a mettere le mani, fermandosi a guardare le illustrazioni con una pignoleria che Henry dava sui nervi. «Di questo passo ci metteremo una vita!» Brutus è stato trovato morto tre ore dopo il nevimento. «Quanto è passato da quando hanno preso Molly? Due ore?» Scosse la testa e ripresa sfogliare la sua parte dei libri, in fretta, più in fretta. Parole in lingua a lui sconosciute gli scorrevano davanti agli occhi, seguiti da immagini incomprensibili che gli facevano incrociare gli occhi e dolere la testa. Non ce l'avrebbe mai fatta. Non era un lavoro per lui, lui era solo un auro e anche stupido. Era un lavoro per gente diversa, come Percy. Come... come Odri, cazzo. Sarebbe mai riuscito a risolvere quel caso ora che Odri non c'era più? Ora che Percy era inservibile? Una sonora impregazione di Hermione lo riscosse da quei pensieri negativi. «Un libro mi ha masso!» strillò più offesa che sorpresa, per poi puntare la banchetta contro lo scaffale. Il volume colpevole dell'assalto e quelli adiacenti furono sbalzati in aria. Harry li vide lottare contro la forza che li teneva sospesi, ma Hermione li fece abbattere contro la parete in fondo della stanza. Harry rimasero, scivolando lentamente a terra. «Non è ancora nato il libro che mi staccherà un dito!» sbattò la ragazza scatenando uno sbuffo divertito in Harry e una risiativa nervosa in Ron. «Ho tentato a non fare troppi danni, l'ammone in lui. Ho dei progetti per il nostro anniversario, vorrei evitare di passarlo in galera». Con la coda dell'occhio arrivi di Hermione a Rossiere. «Ah sì? Dei progetti?» fece lei in tono casuale. «Ti andrebbe di condividerli, Weasley?» Ron a Rossiere a sua volta si ributtò a capochino sugli orologi. «Prima risolviamo questo casino, che ne dici?» «Giusto, hai ragione». Hermione squaccò un'ultima occhiata languida al compagno, prima di voltarsi verso il buco lasciato dai libri mordaci sullo scaffale. E nel farlo sussoltò. «Che c'è?» chiese subito Harry. «Ragazzi, mi sa che l'ho trovato!» «Sol serio?» Si precipitarono a guardare la parete nuda dietro allo scaffale, nel punto in cui indicava la ragazza. Inciso nella pietra c'era un graffito appena visibile, ma illuminandolo con le loro tre bacchette, videro che era loro boro dalle fattezze umane. E lui... Harry sentì che il cuore avrebbe potuto uscirgli dal petto tanto batteva forte. Avvicinò la bacchetta alle pareti. «Ma che diavolo?» Potrebbe esserci un'apertura segreta dietro alla libreria. Non si mise a spostare il resto dei libri dallo scaffale. «Guardate se c'è qualche altro segno». «Non vedo niente, Hermione?» «Mi sembra...» Hermione strezzò gli occhi e allungò una mano a toccare la parete. «Sì, c'è un altro graffito più piccolo lì sotto, guarda bene!» Aveva ragione. Qualche centimetro sotto loro boro c'era un segno a forma di goccia. «Ovviamente», sbuffò Harry afferrando il primo libro disponibile e aprendolo a una pagina qualunque. «Figuriamoci se non...» «Harry! Cosa? No!» esclamò Hermione mentre il suo amico si procurava un taglio nel polpastrello con lato della pagina. «Che fai?» «Una cosa che ho imparato da Odri. I segreti più importanti sono sempre sigillati col sangue e richiedono sangue per essere scoperti». Resistendo all'impulso di succhiare via il dolore dal dito, Harry ne appoggiò la punta sopra il graffito. Attese così diversi secondi, in vano. Nulla si aprì, né si rivelò. «Non mi sembra molto efficace», borbottò Ron. «Forse la goccia non rappresenta il sangue?» Harry ritirò il dito e un'altra idea si affacciò alla sua mente. «No, so io cos'è...» «Ron?» «Mh?» «Fatti un taglio, per favore». «Cosa?» «Figlia di me, vedrai!» L'altro lo guardò a tonito, poi si girò verso Hermione. Lei fece spallucce. «Lo faccio solo per te, amico!» Mugugnò allora Ron, tagliandosi con lo stesso sistema di Harry. Si sporse sullo scaffale e poggiò il dito ferito sul loro boro. «Ecco, visto? Stesso risultato! Bello spreco di...» «Cosa, cazzo?» «Sì, tuoi Harry, mentre con uno scricchiolio in sinistro la parete di pietra dietro lo scaffale si apriva rivelando una piccola nicchia. L'auror vi infilò la mano e ne stasse un libriccino sottile, dalla copertina marrone scuro. «Come diamine? Perché serviva il mio sangue adesso?» Volbottò Ron. «Te lo spiego dopo, ora guardiamo cos'è questo». Si sedettano al tavolo più vicino, tre teste ammassate sopra l'ennesimo mistero da risolvere. «Edax rerum», si billò Harry leggendo la copertina. «Che significa?» «È latino?» «Ma non ne ho idea, mi dispiace». Hermione scosse il capo. «Non ho mai sentito la parola edax». Nemmeno le scritte all'interno furono d'aiuto. I testi vergati a mano erano in latino, greco, sanscrito e inglese medievale, e spesso le frasi erano composte da un miscuglio di queste lingue e da altri simboli indecifrabili. Gli schemi disegnati accanto però erano chiari. Illustravano rituali occulti o alchemici, e la simbologia ricordava, almeno ai loro occhi inesperti, quella utilizzata negli omicidi su cui stavano indagando. Tra tutti spiccava ovviamente il loro poro antropomorfo, che appariva quasi in ogni pagina e sotto al quale era sempre riportata la scritta «Edax rerum», senza ulteriori specificazioni. «Va bene», mormorò Harry una volta che ebbero finito mettendosi il libercolo in tasca. «Ce lo faremo bastare. Ora dobbiamo andare». «Dove?» «Grazie di averlo chiesto, Ron», si alzò in piedi e gli rivolse un sorriso feroce. «Andiamo ad aprire il culo agli alchimisti!» «Forza, veloci!» «Aspetta, come? Aspetta!» Un istante dopo erano di nuovo nella stanza circolare, che prese subito a girare. «Come facciamo a raggiungere la sala degli alchimisti?» Esclamò Hermione. «Persi ha detto che ci si va solo su invito!» «Sa guardare!» «Ron?» «Ah, no! Non mi faccio un altro taglio!» «Non serve! Pensa alla sala!» «Cosa? Ma non so come è fatta!» Le pareti smisero di ruotare, per poi riprendere immediatamente in senso opposto. «Ha le mura gialle», disse Harry, ed è enorme, col soffitto altissimo illuminato da luci sospese in aria «e il pavimento è un mosaico geometrico a figure rosse e bianche. Ci sei?» «No! Fa niente! Immaginatela come ti pare!» La stanza circolare si fermò. «Ora scegli una porta qualsiasi!» Per la seconda volta, Ron guardò il nione allibito. «Ma fa sul serio?» le chiese. Lei roteò gli occhi in un gesto esasperato. «Chiedi a me se Harry Potter fa sul serio? Ma quanti anni hai? 12? Apri quella cazzo di porta, Ron!» «Va bene, va bene!» sbuffò lui avvicinandosi a una delle porte scure. «Ma se non dovesse funzionare, non date la colpa a me!» «Cosa cazzo?» Fisso davanti a sé a bocca aperta, subito imitato da Hermione. Harry sorrise, esultante, e gli diede una pacca sulla spalla. «Ben fatto, amico!» gli disse prima di sorpassarlo ed entrare nella sala degli alchimisti.